Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASPE di Catania tramite l'UOC Igiene Ambiente di Vito organizza per sabato 25 novembre a partire dalle 9 presso Villa delle Favara Biancavilla il corso di formazione per gli operatori sanitari in materia di rischio ambientale relativo agli interventi di bonifica del SIN di Biancavilla. L'appuntamento voluto dal commissario straordinario dell'ASPE di Catania, il dottor Maurizio Lanza, è rivolto a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici, igienisti e tecnici della prevenzione per promuovere la ripresa dell'attività dell'ambulatorio di pneumologia dell'ospedale di Biancavilla e del focal point dopo il rallentamento causato dalla pandemia da Covid-19 e per affrontare le diverse tematiche correlate agli interventi di bonifica del SITO di Interesse Nazionale di Biancavilla, tra cui la bonifica e la messa in sicurezza dello stesso. Il corso favorirà inoltre la condivisione e la conoscenza delle procedure diagnostiche previste per ridurre il rischio connesso alla potenziale esposizione a fibre aereo disperse sulle attività individuate nell'ambito del piano di intervento straordinario del SIN, coordinate dal Dipartimento di Prevenzione e dall'UOC di Medicina Interna dell'ospedale di Biancavilla di prevenzione e di promozione della salute. Per i cittadini residenti nel comune di Biancavilla, di età compresa fra i 40 e i 70 anni, con amnesi positiva per esposizione a fibre di flore denite inseriti nel protocollo SIN, approvato dalla Regione Siciliana su segnalazione del medico di medicina generale. Sono infatti programmati interventi di screening gratuiti al fine di individuare precocemente eventuali segnali di insorgenza di malattie. Le procedure diagnostiche prevedono l'effettuazione di colloquio anamnestico strutturato e la visita specialistiche e accertamenti strumentali mediante apposito spirometro computerizzato. Grazie.